Bene le prestazioni, decisamente meno i punti in classifica. Ed è questo un piccolo campanello d'allarme che tuttavia la Fidelis vuole subito archiviare dopo una settimana agrodolce, partita con il pari di Viterbo e proseguita con le sconfitte nei derby contro Cerigno e Taranto. Sabato, con anticipo alle 14.30, ci sarà la sfida al Picerno per la quinta giornata di campionato, orario di inizio modificato per i problemi elettrici non ancora risolti allo Stadio degli Olivi che non hanno consentito la disputa in serale come da programma. C'è stata comunque una settimana completa di lavoro in cui le sensazioni di Mirko Cudini sono comunque buone. La giusta concentrazione, il giusto approccio come hanno spesso avuto. Abbiamo cercato di correggere anche quelle che sono in questo momento alcune nostre carenze in una squadra che si sta costruendo, strada facendo, quindi a livello di conoscenza e quindi devo dire che la settimana è passata molto bene con la giusta concentrazione e con la giusta importanza che dobbiamo dare a questa partita. Possibili delle novità in campo, possibili anche delle novità tattiche. Il 4-3-3 di Cudini non è in realtà in discussione, ma è apparso un po' fragile in alcuni momenti delle partite. A preoccupare in particolare sono il numero dei gol incassati, praticamente due a partita in una settimana, ma non mancano le reti fatte e soprattutto i marcatori diversi andati a segno. Peculiarità tipica delle squadre del tecnico andriese. Andiamo alla ricerca di quello che è l'equilibrio in questo momento, che ci può dare un tipo di partita come lo è quello del Picerno, quindi potrebbe esserci qualche cambiamento. Ma al di là di questo, a me piace lo spirito che hanno questi ragazzi, che chiunque va in campo riesce a... o perlomeno mette in campo spesso volentieri quello che dovrebbe dare. In questo momento i risultati sicuramente non stanno dando ragione a questo, però devo dire che ci arriveremo presto e mi auguro che già da domani si possa vedere qualcosa di diverso. Non ci sarà sicuramente Luca Ercolani, che sta recuperando dall'infortunio subito nella gara contro il Cerignola al ginocchio, e non ci sarà neanche l'italo-togolese Malik Djibril, convocato nella nazionale Under-23 del Togo. Per il resto tutti a disposizione, visto che migliorano anche le condizioni di Ciotti. Di contro ci sarà il Picerno di Longo, che è divenuta negli ultimi anni una vera e propria bestia nera dei Biancazzurri. Ad Andria dal 2018, tre sono i precedenti, con un successo Fidelis e due dei Lucani, in particolare lo scorso anno in rimonta. 4-3 è il loro modulo, buone caratteristiche individuali, hanno cambiato qualcosa rispetto allo scorso, anche se gran parte della squadra è rimasta, quindi devo dire che è una squadra da prendere con le molle, perché hanno fatto un buon campionato lo scorso anno, anche se hanno cambiato allenatore, l'interagliatura è rimasta la stessa, hanno cambiato leggermente il loro modulo di schieramento in campo, però devo dire che l'interpretazione è buona per quello che si è visto, quindi dobbiamo stare molto attenti.